per Immobile era di rigore, Musso, poi arriva la rete, arriva la rete della Lazio con Pedro che ha capito tutto, l'opportunismo del numero 9 della Lazio che tocca con il sinistro in rete è bastata, una disattenzione difensiva dell'Atalanta in particolare di De Miral per la conclusione di Immobile il miracolo di Musso, ma aveva capito tutto, Pedro con la sua esperienza sulla ribattuta è andato a toccare il pallone in rete, diciannovesimo, Atalanta a zero intelligentissimo anche in questa situazione Zapata, dall'altra parte ultima possibilità per l'Atalanta nel primo tempo Zapata a rete, gran gol di forza da parte dell'attaccante colombiano e qui la disattenzione è tutta della difesa della Lazio che all'ultimo secondo con il recupero di fatto già scaduto concede l'occasione un altro recupero da parte di Immobile, va via ancora in velocità, Pedro per via centrali c'è Immobile, si libera, Pedro fa tutto da solo, dall'altra parte ancora Immobile in mezzo rete, passa in vantaggio la Lazio Immobile sotto al settore con i tifosi bianco celesti tutti ad abbracciarsi di prima è arrivato il passaggio dalla sinistra ma anche in questa azione che resta lì a destra, poi pallone che viene girato all'indietro altro cross in mezzo, gira De Ron, rete e pareggia l'Atalanta e pareggia l'Atalanta, dall'altra parte lasciato solo gli errori fino alla fine ma l'Atalanta con il cuore arriva al pareggio quando siamo arrivati alla 49esimo Atalanta 2, Lazio 2, ha pareggiato De Ron